Sono saliti sul cornicione di un grattacielo per farsi un selfie e per questo quattro ragazzi tra i 16 e i 17 anni sono stati denunciati per procurato allarme dai poliziotti chiamati da un passante che aveva visto alcune ombre muoversi sul cornicione. La costruzione in zona industriale a est visibile dalla tangenziale è da tempo posta sotto sequestro e per questo disabitata. Gli agenti sono intervenuti bloccando i quattro minori e portandoli in questura dove sono stati denunciati prima di essere affidati ai genitori. Ai poliziotti i ragazzi hanno spiegato che si era trattato di un gioco e non avevano considerato il pericolo.